Pioggia e vento al Guido Biondi ma soprattutto i tre punti, stadio con circa 2500 presenze e turnover di Carmine Gautieri al cospetto della Regina. Al fianco di Minotti c'è Paghera a centrocampo in avanti con Plasmati e con Piccolo gioca Fofanà, rientra Amenta al centro della difesa. Di Onigi e la sua regina cercano il quinto risultato utile consecutivo, il Lanciano non vuole fermarsi più e va a caccia degli ennesimi tre punti della stagione in un periodo davvero d'oro. Buon primo tempo da parte Rosso Nero e vedete subito dalle immagini il pallone di Volpe, c'è qualcuno che cade in area, poi il tiro fuori di poco dalla distanza ad opera di Alberto Almici. E poi arriva il gol su azione manovrata e da schema, il pallone in mezzo per la testa di Momo Fofanà che va a segno e sblocca il risultato al diciannovesimo del primo tempo. Da Mammarella a Volpe il pallone per la testa di Fofanà che batte il portiere Paolo Baiocco. La reazione della regina è timida e senza frutti. Vediamo questa occasione da parte calabrese con l'uomo più rappresentativo di Michele. Spara alto sopra la traversa della porta difesa dal portiere Leali. Ancora il Lanciano sempre con Mammarella che suggerisce per Fofanà. Questa volta il suo colpo di testa, seppur da buona posizione, non centra lo specchio della porta. Con le immagini arriviamo alla ripresa. Soffre l'approccio diverso il Lanciano per i primi 15-20 minuti. Eppure sono proprio i rossoneri con Almici che serve Antonio Piccolo in mezzo. Il pallone sfila in area di rigore. Poi il tiro di Alessandro Volpe dal limite, vediamo nel replay, che termina di poco alla sinistra del portiere Baiocco. Eppure la regina insiste, è un buon momento per gli ospiti e Rizzato che assiste a volo Comi che in scivolata realizza il gol dell'1-1. La regina ci crede e pensa addirittura di arrivare al colpaccio in un buon momento, nei 15-20 minuti nel corso della ripresa. Ma il Lanciano reagisce con vemenza e guardate Falcinelli, entrato proprio in corso d'opera, cosa riesce a realizzare per la gioia di Carmine Gautieri. Il pallone imbeccato da Almici, di testa, stacco imperioso, curva invisibilio con il pallone alle spalle del portiere Baiocco. E' il gol che riporta in vantaggio da più angolazioni i rossoneri della Virtus che continuano a macinare gioco, credono di rimpinguare il risultato. Guardate questa azione insistita con Piccolo il suo sinistro a giro che non inganna Baiocco. Piccolo avrebbe realizzato il suo quarto gol in altrettante gare in rossonero. Bravo Baiocco e poi Falcinelli, serve questa palla a Mammarella, il cucchiaio, minuto 90. Ed ecco qui la gioia incontenibile del Carletto in rossonero e stadio Guido Biondi che diventa una bolgia in visibilio, cucchiaio preciso con il suo sinistro e pallone che si avvia verso la rete. Un gran lanciano che stacca le inseguitrici, piega la diretta concorrente e festeggia un momento magico. Avanti Virtus, la salvezza è sempre più vicina.